Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video, ragazzi io sono Fox e oggi dal bunker di Fox vi voglio presentare un nuovo prodotto ragazzi prodotto in esclusiva perché uscirà tra una decina di giorni su per giù nello store ufficiale da lì come ragazzi avete detto dal titolo parliamo della nuova antenna bluetooth wifi che potrà essere connessa a qualsiasi bms smart e ti permetterà finalmente di tenere sotto controllo programmare e regolare la bms da remoto ragazzi io questo accessorio lo desideravo e lo avevo richiesto già circa un anno fa infatti l'anno scorso quando io ho iniziato l'assemblaggio della batteria avevo chiesto ai referenti di da lì ma non avete qualcosa che si connette via wifi e posso leggere i dati in tempo reale da remoto perché perché le bms da lì ragazzi hanno usualmente aspetta un attimo che prendo appunto la bms da lì ok bene e qui abbiamo bene benissimo questa ragazzi è la mia bms di ricambio te la faccio vedere una bestia enorme eccola qui è una 250 ampere con una ventola bene 48 volt perciò 16 s live più 4 io solitamente queste bms come anche quelle più picche le utilizzavo con questo eccolo qui questo è il dischetto originale della bms grazie a questo ragazzi io fino a oggi sono riuscito a entrare dentro la bms e leggere tutti i dati oltre che fare i settaggi voltaggi amperaggi in tempo reale leggere sul multimetro a freccetta che c'è sull'app tutti i dati dell'app poi ragazzi oltre questa novità c'è stato anche l'aggiornamento dell'app stessa infatti dal momento in cui hanno lanciato questo hanno dovuto giustamente aggiornare l'applicazione e ora se non lo hai fatto vallo a fare immediatamente ragazzi perché è disponibile già sul play store e niente c'è questa applicazione che ti permette di vediamo se riesco a farla stare all'impiede cioè di ok perfetto cioè dovete andare a fare l'aggiornamento dell'app direttamente dal play store oggi l'app si divide in due cioè la apri e ti dice vuoi accedere alla bms tramite un normale bluetooth tipo quello che ti ho fatto vedere prima tipo questo ok che poi anche questi ce ne sono tanti modelli differenti c'è il modello più vecchiotto che questo c'è il modello successivo che questo o c'è il modello nuovo che quello comunque oggi tutti questi sono diventati vecchi perché ragazzi è arrivato ufficialmente lui ragazzi eccolo qui fornito con il cavo oggi io posso andare a leggere tutti i dati anche se sono altra parte del mondo ragazzi tutto grazie a questo grazie alla rete internet perché ovviamente si appoggerà pure questo come già fanno i wifi dei miei due inverter che si collegano ad internet qui c'ho la ricevuta ufficiale originale di dali con tanto di cognome contatto di indirizzo con tanto di codice prodotto davvero bravi ragazzi di dali niente ragazzi sotto in descrizione io vi lascio il link a questo nuovo gingillo che tutti i ragazzi dovete avere si va a cablare sempre è ovviamente sulla porta dovrebbe essere la uart vediamo se è vero che comunque eccola qui e sulla uart si va a fare l'accesso tramite la smart app e da lì la programmi dai la pasta password del tuo router fa la connessione di rete grazie al tuo router dovrebbe essere 2.4 gigahertz ok non compatibile col 5 gigahertz e se lo analizziamo ragazzi è molto più pesante di una normale antenna bluetooth ovviamente questo fa sia da bluetooth che da wifi perciò doppio uso ho però da provare se posso per esempio utilizzare in contemporanea sia la parte bluetooth che la parte wifi che ragazzi potrebbe essere molto interessante ok ragazzi andiamo ora a vedere com'è il setting del remote allora bisogna fare una registrazione ok immediate registrazione andiamo a mettere tutti i nostri dati italia eccetera 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 francia in base dove siete siti e andiamo avanti ok ragazzi ecco qui ho fatto tutta la procedura di connessione dell'antennina con il mio router 2.4 gigahertz mi raccomando ora vedi vado qui remote ok file check in nella connessione ti 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 ufficialmente da oggi io potrò vedere sempre i dati reali della mia batteria grazie a questa fantastica antenna wifi niente ragazzi se vi interessa sotto vi lascio in descrizione il link potete acquistarla cioè ragazzi ha un costo irrisorio per la comodità il funzionamento e tutto ciò che ti permette di fare davvero costa pochissimo ragazzi per questo video è tutto spero sia stato utile spero che hai apprezzato la super novità che da lì ha voluto riservare a tutti noi appassionati di fotovoltaico e di batterie ciao belli a tutti se non l'ha ancora fatto iscriviti ti aspetto al prossimo video ciao ragazzi al prossimo video